Buon venerdì 25 ottobre. Il Vangelo di oggi ci presenta domande semplici fatte da Gesù alle folle e sono domande che continuano a essere presenti nella storia dell'umanità. Certo, sono state formulate duemila anni fa, non c'era la sofisticazione tecnologica relativamente alla nostra capacità previsionale, ma quelle domande esplorano la nostra disponibilità o meno a porre attenzione al proprio tempo. Ci facciamo presuntuosi in quanto sapiens di poter immaginare concretamente l'evoluzione del futuro, le previsioni del tempo, le quali garantiscono una prevedibilità, previsione, non vuol dire certezza di qualche giorno, però vorremmo sapere che cosa accadrà anche l'anno prossimo, come organizzeremo le nostre vacanze e molto spesso perdiamo di vista la sensibilità nei confronti di ciò che realmente ci accade intorno. Non siamo capaci a leggere i segni dei tempi. Sappiamo accedere a internet, esplorare appunto la meteorologia, abbiamo gli esperti i quali ci dicono che cosa accadrà per esempio questo fine settimana, se pioverà o ci sarà il sole, se farà caldo o se incomincerà a fare freddo. Vedete sono domande molto antiche rispetto alle quali abbiamo anche la presunzione di sapere, ma leggiamo il brano del Vangelo di oggi. Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù diceva alle folle, quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia. E così accade. E noi abbiamo anche smesso di guardare la nuvola che sale da ponente, abbiamo perso di vista la nostra sensibilità nei confronti del contesto nel quale viviamo, dell'epoca storica nella quale esprimiamo la nostra esistenza. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo. E così accade. Sembrano domande fin troppo semplici e risposte quasi banali. Ma come si esprime poi Gesù di fronte a questa ovvia conclusione tratta da ciò che accade nell'immediatezza? Gesù ci chiama ipocriti. Ipocriti si riferisce a quelle folle, ma io credo si possa riferire praticamente a tutta la storia dell'umanità e alla contemporaneità. Ipocriti. sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E' vero. Non siamo capaci di valutarlo anche se pretendiamo di sapere tutto. Accadono le crisi e le definiamo imprevedibili. E ciò che noi avevamo previsto non accade. Però, nello stupore, non ci premuriamo di essere maggiormente attenti a quello che accade nel nostro tempo. E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto, un invito a bussare alla porta della coscienza per cambiare mentalità, cogliere la dimensione autentica della giustizia. E la giustizia contiene in sé anche la necessità di una mediazione nella misericordia, perché questo è il modo più autentico per costruire punti di pace, per entrare nella dinamica di un amore universale, comunitario, dove non c'è spazio per la legge vendicativa. E qua fa un esempio, un esempio particolarmente interessante e significativo. Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui. Quando siamo in un conflitto, siamo capaci di procedere, almeno per un po' di strada, con quello o quella che diventano i nostri avversari, cercando un accordo faticoso nel quale ciascuno o ciascuna reciprocamente deve lasciare qualcosa di se stesso per poter trovare quell'accordo. Per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Fa l'esempio ovviamente dell'evasione fiscale, anche allora evidentemente rappresentava un problema. Cerca l'accordo, ma in quale contestualizzazione? In quella della giustizia e nella tutela del bene comune, perché lì si esprime la giustizia, perché si svolge lungo la dimensione della carità che è amore. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. E qui si parla di una prigione reale concreta, ma possiamo immaginare che il racconto simbolicamente rappresenti la prigione esistenziale nella quale spesso noi finiamo per autoconfinarci, per non aver saputo trovare gli accordi. Questo tempo di guerra è tempo di confinamento e di prigione. Ci troviamo a dover pagare un debito enorme, perché la guerra è devastazione, è foriera di odio, di inimicizia. E siamo chiamati con saggezza, moderazione e misericordia a percorrere una strada di pacificazione, di mediazione, cercare un accordo nella conflittualità. Lo possiamo fare solo se poniamo attenzione alla nostra necessaria azione di trascendenza da noi stessi, uscire dall'egocentrismo e dall'antropocentrismo, perché c'è un debito profondo che noi dobbiamo pagare nei confronti della natura, altrimenti saremo confinati in una prigione fatta di paura, di catastrofi climatiche, di impossibilità di controllare la situazione dopo che per tanto tempo ci siamo ritenuti capaci di prevedere e controllare il cielo e la terra. È un brano del Vangelo che ha una attualità sconcertante e quelle domande cerchiamo di rivolgerle a noi stessi facendoci maggiori attenti osservatori di ciò che accade intorno a noi in una prospettiva di radicale giustizia, di amore che nasce dalla disponibilità alla conversione. Buona giornata a tutte e a tutti.